Iniziamo oggi il dodicesimo ciclo di incontri, l'appuntamento cosiddetto primaverile con i dialoghi di diritto tributario, ma vedo tanti partecipanti, tante facce note, quindi ormai sanno di cosa stiamo parlando. Quest'anno abbiamo deciso insieme agli altri partner dell'iniziativa, in particolare la dottoressa Endrice dell'Agenzia delle Entrate, di fare tre eventi monotematici, quindi il contraddittorio oggi, le sanzioni il 18 marzo e la riscossione il 17 aprile, per avere proprio spazio e cercare di individuare i punti critici relativamente a queste fattispecie. Volevo anche, visto che abbiamo organizzato per il 13 marzo 2015 nella Sala della Cooperazione, un convegno sicuramente di grande attualità in questo momento sulle nuove forme di collaborazione con il fisco, ravvedimento e adesione e rientro dei capitali dall'estero. Quindi alle ore 14.30 la Sala delle Cooperazioni in via Segantini. La giornata è ricca, quindi non tolgo spazio ai relatori, che ringrazio tutti moltissimo per la partecipazione, un ringraziamento particolare al dottor Giunta, che è venuto nonostante una serie di piccoli problemi, ma noi siamo molto contenti di questo. Quindi lascio la parola subito all'amico professor Lorenzo Del Federico dell'Università di Chieti Pescara relativamente ai profili del contraddittorio collegati a questa nuova tendenza dell'amministrazione di risultato. Anche l'amministrazione di finanziaria in un ambito più generale del diritto amministrativo si pone come amministrazione di risultato e quindi sentiamo quali sono le considerazioni che ci vorranno dare. Allora, grazie a tutti voi, alla professoressa Magliaro, all'Università di Trento. Vengo sempre molto volentieri perché si tratta di incontri molto attenti ai contenuti, ma che al tempo stesso consentono di avere un po' una pluralità di voci tra le varie componenti professionali, istituzionali, accademiche che si occupano della fiscalità. Anche il tema di oggi, anzi direi essenzialmente il tema del contraddittorio, è un tema di particolare momento. perché ci induce a riflettere un po' su due o tre aspetti dell'ordinamento tributario. Il primo è quello dell'equilibrio tra efficacia ed efficienza dell'azione impositiva e garanzie del contribuente. Il secondo è l'equilibrio tra l'azione impositiva e la tutela giurisdizionale. Il terzo è una rinnovata sensibilità per i profili sostanziali del diritto tributario e del diritto trucur rispetto al tradizionale approccio formalistico-legalitario. Partiamo da uno spunto poco tributario e poco tecnico. Il caso Lusi. Lusi era un esponente, così voglio dire il diritto è realtà, realtà viva, pulsante, e allora a volte è utile anche prendere qualche spunto dal dibattito politico-istituzionale. Questo da Lusi era un funzionario della Margherita che pare si sia appropriato di alcune somme, pare, poi confluisce nel Partito Democratico, il collegio dei probiviri lo espelle dal Partito Democratico. Lusi fa ricorso al Tribunale di Roma impugnando la delibera di espulsione emanata emessa dai probiviri del Partito Democratico attraverso un giudizio di tipo impugnatorio, impugna questa delibera il Tribunale di Roma con una sentenza di pochi giorni fa, del, veramente recentissima, del 6 febbraio, con questa sentenza riconosce violati i diritti di questo ex uomo politico e dice che la delibera era illegittima. Era illegittima perché uno che sente che la delibera è illegittima pensa, quindi questo adamantino, cristallino, no, era illegittima perché non gli erano stati contestati gli addebiti e perché Lusi non aveva avuto la possibilità di far valere nell'ambito di una fase di contraddittorio anticipata rispetto al provvedimento di esclusione i suoi diritti. Ma nel frattempo credo che Lusi si sia beccato qualche importante condanna in sede penale. Allora cosa c'è alla sostanza di questo caso che vi ho evocato, giusto per accendere un po' gli interessi che a volte nella materia tributaria sono importanti ma molto soffusi vista la delicatezza della nostra materia. Ma dietro c'è questo, il contraddittorio, il principio del contraddittorio, le garanzie, i principi del procedimento, sono serventi rispetto ad una funzione di rilievo sostanziale del diritto o sono strumentali bagatellari da litigator più che da soggetti interessati alla sostanza dei fenomeni? Cioè Lusi se lo meritava un contraddittorio o il caso era talmente clamoroso da rendere possibile l'espulsione to court? E ancora di più, ma ha senso che oggi il Tribunale di Roma, a fatti conclamati, intervenga per impugnare una delibera che non dovrà essere altro che riemanata con le adeguate forme per dare sfogo in un contesto di contraddittorio ad una difesa che insomma sembra nel merito piuttosto sterile. Questo tema di fondo, che sembrerebbe quasi quasi addirittura poco pertinente rispetto a temi che oggi trattiamo, in realtà sta un po' sullo sfondo di una clamorosa riforma del diritto amministrativo e del diritto della disciplina generale dell'azione amministrativa che è stata introdotta in Italia nel 2005, la legge numero 35 che ha modificato la legge 241 del 90, diciamo un intervento piuttosto clamoroso per quello che vedremo velocissimamente tra poco, ma che tuttavia non ha avuto un'adeguata attenzione non solo nell'ambito degli studiosi dell'azione amministrativa in generale, ma certamente in ambito tributario. Questa riforma della legge 241 del 90 ha introdotto un principio importante, anzi, per quanto ci riguarda ne ha introdotti due dei principi importanti. Il primo ha codificato i vizi degli atti amministrativi, passando dall'antica illegittimità alla attuale tipologia dei vizi di nullità o annullabilità. Il secondo profilo di particolarissimo interesse sta nel depotenziamento dei vizi formali e procedimentali. L'articolo 21 Octies di questa legge prevede che l'atto amministrativo che presenti vizi formali o procedimentali, laddove sia atto vincolato quanto al contenuto, non possa essere annullato in presenza dei vizi formali e procedimentali, a meno che non risulti che in assenza di quei vizi il risultato dell'azione sarebbe potuto essere diversa. Una cosa un po' complicata, poi ci ragioniamo meglio. Per adesso cogliamo due linee guida. I vizi che in passato si risolvevano in illegittimità ora sono vizi di nullità o annullabilità. Questa tipologia di vizi invalidanti subisce un depotenziamento per quanto riguarda le violazioni formali o procedimentali. Si applica o non si applica questa riforma in materia tributaria? Si applica in virtù di tutto un percorso interpretativo sul quale non vi sto a tediare ma ho mandato uno scritto articolato al quale rinvio in un contesto come questo è meglio farsi prendere dai profili più vibranti della tematica, più che dai passaggi argomentativi. Questa riforma si applica in materia tributaria in virtù di un percorso interpretativo centrato essenzialmente sull'articolo 13 della legge 241 del 90 che dichiara inapplicabile in materia tributaria il solo capoprimo in punto di partecipazione al procedimento. Tutto il resto quindi si applica, si applicano tutti gli altri capi per i quali non vi è la norma di deroga contenuta nell'articolo 13,2. Ma poi soprattutto al di là di questo percorso interpretativo la legge 241 del 90 e la novella del 2005 si applicano perché il diritto vivente ormai recepisce questa applicazione e ci sono almeno una decina di sentenze di cassazione che fanno riferimento ai principi desumibili dalla 241 del 90 così come novellata nel 2005. Nell'ambiente tributario questa clamorosa novità non è del tutto stata metabolizzata ancora adesso nelle sentenze della cassazione delle commissioni provinciali e regionali si parla di legittimità, nullità, nullabilità, infondatezza in modo così un po' confuso il quadro essenziale che va focalizzato ora dovrebbe essere quello per cui i vizi degli atti impositivi non possono che essere vizi di nullità o annullabilità non ha più senso parlare in infondatezza l'infondatezza non esiste come categoria giuridica del vizio dell'atto questo per un verso per l'altro verso anche in materia tributaria i vizi formali e procedimentali risultano depotenziati perché? perché si è realizzato un nuovo assetto del sistema dell'azione amministrativa e dell'azione impositiva che è orientato verso una logica utilitaristica di amministrazione di risultato si tende a privilegiare l'efficacia dell'azione il raggiungimento del fine ultimo voluto dall'ordinamento piuttosto che il rispetto formalistico dei profili legali e formali ma che poi possa risultare talvolta diciamo carente dal punto di vista dei corretti assetti giuridico sostanziali ma questo depotenziamento dei vizi formali che in definitiva si risolve in quella formuletta dell'articolo 21 octies cioè se c'è un vizio formale o procedimentale il giudice non deve annullare immediatamente ma si deve chiedere in assenza di quel vizio il risultato poteva essere diverso se la risposta è no la presenza di quel vizio è rilevante rispetto al risultato ultimo non si annulla se la risposta è sì la presenza di quel vizio è significativa si deve annullare è una un assetto clamoroso strano discutibile o no è meno clamoroso strano discutibile di quello che possa sembrare intanto risalendo di mezzo secolo l'articolo 156 del codice di procedura civile già prevede che i vizi di nullità degli atti del diritto processuale civile risultano sanati quando l'atto raggiunge lo scopo uno potrebbe dire vabbè ma nel codice di procedura civile tutto sommato la sfera delle libertà personali economico patrimoniali è relativa a quello che conta il funzionamento del processo beh ma anche nel codice di procedura penale abbiamo le nullità sanabili e le nullità insanabili e le nullità insanabili sono quelle che inficiano atti che poi ugualmente raggiungono lo scopo quindi non è un principio nuovo è un principio che trova intanto un'antica legittimazione nella priorità del diritto sostanziale rispetto al diritto processuale procedimentale ma poi trova caposaldi nei sistemi dei codici degli anni 40 nelle nullità sanabili del diritto processuale penale nell'articolo 156 del codice di procedura civile e nel 1421 del codice civile il contratto ha una clausola nulla ma se si regge senza la clausola nulla va bene viziatur sed non viziat c'è una clausola nulla ma il contratto senza quella clausola si revergerebbe ugualmente è essenziale non è essenziale stralciamo la clausola si salva il contratto perché bisogna salvare gli assetti sostanziali quindi abbiamo un nuovo assetto non così clamoroso come sembra a prima lettura certo abbastanza innovativo nell'ambito del diritto tributario e del diritto amministrativo generale ma nel diritto tributario non veramente innovativo perché vi ricorderete vedo molti giovani ma anche qualche mio coetaneo che c'era una norma adesso il numero non me lo ricordo più ecco il 21 con qualche bis tris l'articolo 21 del dpr 639 del 72 prevedeva la rinnovazione degli atti impositivi quando l'atto prima del 546 del 92 quando l'atto presentava un vizio il giudice rilevava il vizio oggetto di censura e invitava l'amministrazione a rinnovare l'atto emendandolo dal vizio quindi già c'era in materia tributaria qualcosa che tendeva a ridimensionare la rilevanza dei vizi formali e procedimentali però l'articolo 21 era diciamo maldestro perché creava una commistione tra l'amministrazione e il giudice no noi crediamo a Monteschi il giudice deve giudicare l'amministrazione deve amministrare non bisogna confondere i diversi poteri che si esercitano quindi meglio oggi valuta il giudice l'amministrazione unilateralmente emana i suoi atti se ritiene di intervenire in sede di autotutela lo fa ma non aspetta l'ordinanza di rinnovazione del giudice che crea diciamo un rapporto ambiguo tra giudicante ed amministrazione una logica di distinto e separato ambito di attività in questo contesto come si colloca il principio del contraddittorio beh certo il principio del contraddittorio sul quale poi ci saranno tante altre relazioni tanti altri approfondimenti ma noi abbiamo un principio del contraddittorio disciplinato dalla legge 241 del 90 sotto forma di partecipazione dell'amministrato al procedimento ma l'articolo 13 dice questo capo della legge non si applica ai procedimenti tributari per i quali restano fermi le norme di settore che li disciplinano bene però abbiamo avuto poi lo statuto del contribuente che prevede variegate ipotesi di contraddittorio tanto da configurare una sorta di principio generale di vigenza del contraddittorio abbiamo le sentenze delle sezioni unite sugli studi di settore abbiamo tante altre sentenze di matrice europea o di diritto interno abbiamo avuto la famosissima arcinota sentenza delle sezioni unite del settembre 2014 del 18 settembre 2014 che in una materia sulla quale si poteva forse anche dubitare della necessità di ribadire la vigenza e pregnanza del principio del contraddittorio iscrizione d'ipoteca esattoriale ma evidentemente il consigliere Botta che era stato lo stesso che aveva scritto le sentenze di Natale del 2008 sull'abuso del diritto si è reso conto che bisognava un po' riequilibrare le armi fra le parti e allora diciamo in una logica compensativa si è fatto promotore di un'importante sentenza garantistica questa del 18 settembre 2014 ormai nota a tutti gli operatori la 19 6 6 7 il contraddittorio è principio vigente immanente insopprimibile in ogni fase dell'azione impositiva e vi compresa l'azione di riscossione che ne è una delle articolazioni ed è un principio che non può essere compresso non può essere derogato in alcun modo messa così diciamo diciamo la sentenza ci proietta verso un contesto ipergarantistico che potrebbe soddisfare alcuni preoccupare altri certamente potrebbe preoccupare l'agenzia ma l'agenzia si va adeguando va recependo il principio del contraddittorio in vari contesti poi il direttore giunta esprimerà un qualificatissimo punto di vista però al di là di quello che poi accade nel recepimento da parte dell'agenzia quello che conta è diciamo capire se questo principio del contraddittorio è veramente così importante ed è così rilevante in punto di vizio invalidante cioè come si coordina la logica dell'amministrazione di risultato con un principio del contraddittorio così forte quando il consigliere botta ha elaborato la sentenza collegio molto 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 qualificato ma fino a che punto si è reso conto della validità dell'operatività in materia tributaria del principio che vi ho detto del depotenziamento dei vizi formali e procedimentali da questa sentenza non si traggono grossi spunti ovviamente l'avvocato Censi avrà modo di valorizzarne la portata di pilastro garantistico però però io diciamo la vorrei leggere sì come sentenza di garanzia ma anche come punto rispetto al quale innestare una riflessione di ambito più diciamo maggiore non soltanto nazionale tenete presente che il principio del contraddittorio è una matrice europea e comunitaria e la giurisprudenza nazionale lo ha valorizzato anche attraverso un percorso di recepimento di principi del diritto europeo ma la stessa corte di giustizia nella sentenza 3 luglio 2014 credo che sia proprio la sentenza Camino esattamente Camino però con la K proprio la sentenza Camino la corte di giustizia sviluppa tutto un suo percorso il cui diciamo referente normativo è il vecchio articolo 234 del trattato sul funzionamento dell'unione gli atti della commissione e delle istituzioni possono essere impugnati e possono essere annullati per violazione anche delle forme perché forme sostanziali questo ci fa capire a livello europeo importanza del contraddittorio rilevanza della forma ma con un filtro qui il filtro è dalla sentenza Camino esplicitato e si dice che la violazione del principio del contraddittorio rispetto ai diritti della difesa comporta l'annullamento soltanto quando senza tale violazione il procedimento avrebbe potuto condurre ad un risultato differente e allora il sistema si chiude il nostro 21 octies è perfettamente coincidente con la chiave di lettura che i giudici europei danno al principio del contraddittorio che è un principio che deve essere salvaguardato ma sta al contribuente dotarlo di sostanza se quindi il contribuente quando in una fase contenziosa si limita a dire ah io non sono stato sentito quindi il provvedimento è annullabile e deve essere annullato beh non faremo come il tribunale di Roma che annullerà pro lusi perché dovrebbe dire ma tu che gli dovevi dire al collegio dei probiviri avevi un materiale probatorio tale da quindi non è tutelata la partecipazione astratta bica formalistica vuota ma è necessario che la partecipazione la richiesta di coinvolgimento nel contraddittorio si basi su un apporto argomentativo motivazionale istruttorio che quindi dimostri un'utilità quantomeno ipotetica del contraddittorio quindi quando il contribuente nei ricorsi o addirittura nella fase preliminare chiede che sia attivato il contraddittorio o nei ricorsi si lamenta della mancata attivazione del contraddittorio deve avere cura di aver costruito originariamente la sua azione in un'ottica costruttiva cioè cosa intendi deturre nel contraddittorio e questo non solo in un'ottica difensiva vi faccio un esempio così che poi attiene anche un po' alla disclosure oggi il contribuente vuole sanare una certa situazione ha degli elementi iniziali si apre un contraddittorio con l'ufficio ha degli elementi di prova ma non ne ha altri non ne ha altri perché il contribuente ha un'istruttoria che si basa su sue facoltà privatistiche allora potrebbe dire all'ufficio guarda che io ho solo questo elemento ma se tu ti avvali delle facoltà di richiesta di informazioni in ambito bancario o assicurativo ti sarà agevole ottenere questa informativa io l'ho chiesta alla banca ecco la raccomandata R mandata un mese fa non mi rispondono io che devo fare allora contraddittorio e anche impulso attivati tu agenzia che devi operare a salvaguardia dell'interesse pubblico puoi chiedere a quella banca a quell'intermediario a quell'assicurazione ciò che se glielo chiedo io non ha risposta se glielo chiedi tu avvalendoti dei tuoi poteri autoritativi deve avere risposta ecco allora che quando si va veramente a dare un contributo volto a far emergere dati sostanziali apprezzabili il contraddittorio deve essere salvaguardato ad oltranza quando invece il contraddittorio diventa soltanto un pretesto formalistico beh non perché lo diciamo noi lo dico io per la verità o il 21 octies ma perché lo dicono la corte di giustizia ed ormai è una logica diffusa nei sistemi giurisdizionali di tutti i paesi europei anche nel sistema austriaco anche nel sistema spagnolo via il potenziamento dei vizi formali o precedimentali perché il diritto serve per risolvere dei problemi per dare diciamo un assetto che sia sostanzialmente corretto un assetto sostanzialmente corretto dei rapporti giuridici quindi siamo di fronte al contraddittorio un po' un prisma che ci consente di leggere questa dialettica tra garanzie ed efficacia amministrazione e giurisdizione siamo di fronte alla necessità che ruota intorno al contraddittorio che vi sia da parte del contribuente un ruolo attivo e che vi sia anche da parte dell'agenzia non solo la diciamo opportunità di cogliere dal lato del contribuente un depotenziamento dei vizi formali e procedimentali che certamente offre dei vantaggi all'agenzia ma l'agenzia deve applicare lo stesso diciamo lo stesso approccio sostanzialistico nei confronti del contribuente depotenziando anche i vizi formali e procedimentali degli atti del contribuente quante volte ci sentiamo dire il tale quadro non è correttamente compilato questo codice tributo è sbagliato si capirebbe che ma ciò nonostante non è possibile i vizi formali e procedimentali o dal lato dell'agenzia o dal lato del contribuente debbono contare meno in una logica di amministrazione di risultato in cui il contraddittorio resta è un pilastro ma non deve essere sopravvalutato sovraesposto oltre una certa misura e ho concluso grazie al professor del federico che veramente ci ha dato questo inquadramento davvero molto interessante nel quale adesso interveniamo invece con un argomento più settoriale e l'avvocato Silvia Giorgio presento perché fa parte dell'università di Trento essendo anche lei docente in questa università che si occupa di un argomento specifico ma davvero interessante che è il tema del contraddittorio nell'abuso del diritto e nelle forme di abuso lascia la parola innanzitutto ringrazio per l'invito che è sempre graditissimo sì come diceva appunto Alessandra il tema dell'abuso del diritto rappresenta un po' un buon terreno di prova per assaggiare quello che sostanzialmente è stata la conclusione della relazione che mi ha preceduto perché proprio analizzando la casistica giurisprudenziale fino poi all'approdo ultimo del caso recente del gennaio 2015 nonché le indicazioni contenute sul tema del contraddittorio nell'abuso del diritto desumibili dalla legge delega possiamo un po' evidenziare questa parabola che questa evoluzione giurisprudenziale che nata sotto un eccessivo rigore ha finito invece per giungere forse a un eccessivo garantismo è noto a tutti che la tematica il principio dell'abuso del diritto è nato per invenzione pretoria nelle famose sentenze del dicembre 2008 e ciò che ha particolarmente destabilizzato gli operatori è stato non tanto e non solo questa sua invenzione senza che nulla vi fosse specifico nel dato positivo quanto soprattutto la sua applicazione incoerente contraddittoria da parte della giurisprudenza sotto il profilo delle garanzie procedimentali e processuali le sentenze del 2008 infatti nel momento in cui fanno derivare il principio dell'abuso del diritto direttamente dall'articolo 53 della costituzione e di fatto introducono una norma generale che abroga di fatto il comma terzo dell'articolo 37 bis quello appunto dedicato all'elusione nell'ambito delle imposte sui redditi quindi con una svalutazione di tutte le fattispecie tipizzate dal terzo comma al contempo quindi pur in un certo senso applicando in via generalizzata quanto previsto nei primi commi del 37 bis non fanno seguire a questa introduzione giurisprudenziale di un principio non scritto un speculare principio garantistico di contraddittorio che invece è notoriamente prescritto dal comma quarto dell'articolo 37 bis nonostante anche l'abuso del diritto pur nelle oscillazioni giurisprudenziali evochi la necessità del contribuente di dimostrare le famose valide ragioni economiche che in qualche maniera farebbero cadere la contestazione dell'abuso quindi questo paradosso di costruire l'abuso sulla falsa riga dell'illusione senza al contempo riconoscere le garanzie che invece l'ordinamento espressamente apprestava per l'accertamento anti-elusivo paradigmatico di questo trend inizialmente rigorista della corte di legittimità è certamente l'ordinanza di rimessione del 2013 in cui la corte non si preoccupa del fatto che nell'abuso del diritto modellato come il 37 bis non ne preveda la garanzia ma al contrario è preoccupata del fatto che l'articolo 37 bis sia eccessivamente garantistico nel momento in cui prescrive combina la conseguenza della nullità per l'atto che sia adottato in violazione del principio del contraddittorio in modo particolare cito testualmente quanto affermato in questa ordinanza di rimessione alla corte costituzionale il principio del contraddittorio sarebbe distonico rispetto al diritto vivente e creatore di irragionevoli disparità di trattamento quindi in questa pronuncia della corte il contraddittorio viene di fatto decuotato a una mera formalità come tale censurabile per irragionevolezza e violazione anche del principio di capacità contributiva sotto il profilo costituzionale il carattere un po' altalenante del percorso seguito dalla corte di legittimità vede spesso evocare statuizioni totalmente lesive del diritto di difesa non solo del contraddittorio procedimentale ma anche processuale perché la rilevabilità d'ufficio dell'abuso del diritto affermata sin dalle sentenze del 2008 è stata affermata in più di una circostanza anche recentemente ci sono anche delle sentenze dell'ottobre 2014 che confermano la possibilità di rilevare d'ufficio l'abuso del diritto quindi in totale violazione di principi di difesa del principio della motivazione del principio dell'onere della prova qualsiasi penso che qualsiasi principio insomma possa essere evocato per censurare questo tipo di affermazioni però anche sotto questo profilo ci sono delle aperture della corte di legittimità in particolare nelle sentenze che in qualche maniera sconfessano questa possibilità della rilevabilità d'ufficio dell'abuso laddove vengono per esempio censurate le cosiddette sentenze a sorpresa quindi quindi quelle sentenze che in violazione dell'articolo 183 del codice di procedura civile pacificamente applicabile ovviamente anche alla materia tributaria non instaurano un contraddittorio processuale tra le parti laddove il giudice abbia rilevato d'ufficio una particolare questione non solo c'è una sentenza del marzo 2014 che ritiene la rilevabilità d'ufficio dell'abuso lesiva della disciplina dell'onere della prova e soprattutto una sentenza dell'aprile 2014 che ritiene che la rilevabilità d'ufficio in sostanza determini una illegittima riscrittura ad opera del giudice della motivazione dell'atto impositivo si tratta in realtà di una sentenza quella dell'aprile 2014 che come conclusione è forse anzi certamente condivisa un pochino tortuoso il percorso argomentativo perché la corte in un passaggio premette che in linea di principio il giudice tributario può rilevare d'ufficio l'inopponibilità di determinati operazioni di determinati comportamenti abusivi e quindi sembrerebbe desumerne la possibilità di rilevare d'ufficio l'abuso del diritto però inaspettatamente conclude che un comportamento di quel tipo le darebbe in sostanza comporterebbe una riscrittura della motivazione in debita e come tale violando appunto il principio della motivazione come atto necessario dell'atto impositivo non è sostenibile appunto non sarebbe sostenibile la tesi della rilevabilità l'ultimo approdo quello più garantistico e forse eccessivamente garantistico è quello recentissimo delle della sentenza 406 del 2015 forse influenzata dalla legge delega perché come saprete la legge delega ha espressamente previsto il contraddittorio per l'accertamento antiabusivo quindi una sorta di osmosi tra legislatore e corte il legislatore ha riscritto l'abuso nella legge delega plasmandolo sulla giurisprudenza dell'abuso la corte di cassazione sembrerebbe forse influenzata dal legislatore nel prevedere inaspettatamente addirittura un obbligo di contraddittorio nella fattispecie appunto dell'abuso nella sentenza nel caso di specie che riguardava un'operazione di leaseback la corte parte confrontando la procedura di garanzia di cui l'articolo 37 bis comma quarto con quella prevista dall'articolo 12 comma settimo dello statuto dei diritti del contribuente e ne rileva una sostanziale omogeneità perché entrambe le procedure prevedono il noto termine dilatorio di 60 giorni volutamente creato dal legislatore proprio per consentire la pienezza del diritto al contraddittorio in ogni caso la corte rileva però che a prescindere dal fatto che alla fattispecie dell'abuso si applichi l'una o l'altra disposizione quindi il 37 bis comma quarto o invece l'articolo 12 comma settimo la corte rileva che la questione rimane assorbita dal fatto che il contraddittorio anticipato è una norma imperativa immanente all'ordinamento comunitario e nazionale quindi evoca la giurisprudenza nazionale da ultimo quella appunto in tema di ipoteca già citata ma anche evidentemente la sentenza Camino che pure in realtà è meno garantistica di quello che sembrerebbe desumersi dalla giurisprudenza della corte di cassazione perché l'approdo della sentenza 406 del 2015 è quello per cui il contraddittorio è un principio come dire indefettibile immanente tale per cui ogni qualvolta sia omesso giustifica la combinatoria della nullità dell'atto impositivo emanato in violazione del principio stesso quindi arriviamo a un eccesso garantistico che di fatto risulta in qualche modo maggiore di quello invece desumibile dall'ordinamento europeo perché appunto la sentenza Camino aveva chiaramente distinto l'ipotesi del contraddittorio cosiddetto formale meramente pretestoso dalla ipotesi del contraddittorio in un certo senso utile quindi la eventuale invalidità dell'atto secondo l'ordinamento europeo potrebbe derivare solo ed esclusivamente dalla legazione della dimostrazione per cui in qualche maniera il contribuente avrebbe potuto addurre degli elementi utili mentre nella sentenza del 406 questo non compare è vero poi che c'è stata un'ordinanza di rimissione che immagino sia oggetto della relazione dell'avvocato Censi per cui non anticipo ma limito solo che c'è stata un'ordinanza di rimissione sempre di fatto nel medesimo periodo la 527 del 2015 che si pone proprio questo problema cioè quello del contraddittorio applicabile quale? quello nazionale incondizionato di fatto o quello della Corte di Giustizia che non è un diritto assoluto e incondizionato ma ha dei presupposti abbastanza specifici da ultimo l'approdo della legge delega introduce non solo una definizione di abuso quindi prevede probabilmente l'introduzione di un comma 10 bis allo statuto dei diritti del contribuente ma prevede anche esplicitamente un obbligo di contraddittorio in particolare l'articolo 5 della legge delega prevede l'introduzione di specifiche regole procedimentali che garantiscono l'efficacia del contraddittorio e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento ora dalle varie bozze di decreti attuativi in circolazione da prendere ovviamente con beneficio di inventario si pare insomma che sia procedimentalizzato un contraddittorio di fatto gemello rispetto a quello del 37 bis che di cui infatti si prospetta l'abrogazione quindi lo stesso meccanismo proprio dal punto di vista pratico è previsto un atto necessariamente scritto questo anche per fugare di stipare insomma qualche dubbio perché ci sono delle pronunce che affermano che l'obbligo di contraddittorio potrebbe anche esaurirsi in forma deprocedimentalizzata e finanche oralmente forse per evitare questo pare che sia previsto uno specifico obbligo di invio di raccomandata o eventualmente PEC la richiesta di chiarimenti e anche qui il termine dilatorio di 60 giorni e la combinatoria della nullità esattamente come prevede attualmente il comma quarto dell'articolo 37 bis non sono previsti almeno non mi risulta che siano previsti delle specifiche modalità contenutistiche di questa instaurazione del contraddittorio cioè il contraddittorio presuppone che vi sia l'enucleazione quantomeno della debito a mio modo di vedere ovviamente sì perché se no non avrebbe nessun tipo di senso visto che ha la funzione proprio di esternare un percorso difensivo in mancanza di un addebito non avrebbe senso lo dico perché molto spesso capita l'invio di questionari che sembrerebbero in qualche maniera salvaguardare la forma del diritto al contraddittorio ma che in realtà non contenendo la specificazione di un addebito preciso di fatto sono un po' borderline farei fatica a considerarli una piena esplicazione del diritto al contraddittorio chiudo lasciando diciamo qualche dubbio che mi viene sotto il profilo applicativo e cioè nel momento in cui la legge delega riconosce il principio al contraddittorio in materia antiabuso non potrebbe questo essere considerato un argomento contrario per dire che nel diritto nel dato positivo attuale il principio al contraddittorio generalizzato non c'è altro dubbio che mi viene cosa accade per l'articolo 20 del testo unico del registro che è considerato pacificamente una norma di tipo antielusivo lo consideriamo sulla scorta appunto di questo presunto principio immanente anch'esso procedimentalizzato e quindi a contraddittorio garantito oppure esula dall'applicazione di tutte le garanzie procedimentali previste invece a breve per tutte le fattispecie elusive barra abusive chiudo e ringrazio tutti per l'attenzione ringrazio l'avvocato Giorgio anche perché oltre ovviamente all'analisi precisa del fenomeno è entrata nello spirito dei dialoghi che più che ovviamente trattare completamente la materia vogliono far sorgere proprio dubbi e far emergere quelli che sono i punti particolarmente interessanti in cui magari avremo anche qualche domanda lascio subito la parola invece adesso per una ricostruzione normativa ma anche e soprattutto giurisprudenziale relativamente al tema del contraddittorio invece all'avvocato Sandro Censi prego allora anch'io ringrazio naturalmente la professoressa Maglialo per l'invito ringrazio voi per essere intervenuti ringrazio un po' meno i relatori che mi hanno preceduto e se mai tornerò da queste parti imporrò alla professoressa di essere il primo a parlare nel senso che il mio intervento purtroppo sarà sostanzialmente adesivo cioè dovrò dire come giustamente ha detto il professor del Federico e come giustamente ha sottolineato la collega Giorgi nel senso che la mia idea era di porre sostanzialmente delle domande all'inizio del mio intervento proprio seguendo l'idea dei dialoghi e piano piano andando a fare insieme una carrellata giurisprudenziale molto contenuta perché in realtà partivamo dalla sentenza già citata sopra fino ad arrivare all'ultima ordinanza di rimessione alla sezione unite vedere diciamo quale poteva essere la risposta che si poteva trarre da queste sentenze e comunitarie e nazionali io le domande le faccio lo stesso ma le risposte le avete già avute quindi non essendo dotate in questo momento di un navigatore satellitare per cui volevo fare una strada è interrotta non posso andare da altre parti comunque le domande le faccio lo stesso le risposte cercheremo ugualmente di trovarle insieme naturalmente la prima era relativamente al tipo di contraddittorio perché per lungo tempo o meglio più che al tipo di contraddittorio al momento di effettuazione del contraddittorio perché per lungo tempo qualcuno ha sostenuto che comunque vi poteva essere una sorta di rimedio ex post nel contraddittorio diciamo in via giudiziale per cui comunque l'amministrazione finanziaria emanava l'atto in magari totale o parziale assenza del contribuente e poi il contribuente veniva dal sottoscritto o da qualche collega e chiedeva appunto di redigere un ricorso a quel punto si apriva il fronte del contenzioso che naturalmente qui si indubitabilmente si doveva parlare di necessità di contraddittorio di possibilità per entrambe le parti di esprimere le loro ragioni le loro eccezioni e questo in un qualche modo poteva diciamo raddrizzare o sistemare quel vizio originario che si era creato al momento della istruttoria del procedimento che aveva portato all'emanazione dell'atto quindi sostanzialmente un procedimento di contraddittorio post se in qualche modo poteva sanare poteva diciamo correggere quelli che erano stati i vizi dell'istruttoria diciamo iniziale dopodiché capire se riferendosi invece in questo caso effettivamente al contraddittorio invece preventivo se questo contraddittorio preventivo debba considerarsi necessario o comunque utile solo in determinati fatti specie in determinate situazioni dove magari è espressamente normativamente previsto o perlomeno consigliato oppure se invece sia un come dire un principio immanente sono poi ve lo anticipo parole della Corte e che quindi debba comunque andare al di là di singoli casi previsti ma debba essere utilizzato in un qualunque procedimento amministrativo ulteriore domanda se comunque questo diritto al contraddittorio diciamo così poteva o può subire delle compressioni già stato citato più volte tutti voi conoscete benissimo la nota sentenza della Cassazione per la quale appunto può essere contestato il provvedimento emesso antecedentemente al termine dei 60 giorni dalla chiusura del processo verbale e qui già porrei una domanda per il proseguo e cioè nel caso in cui siccome la norma è molto specifica e anche la sentenza è molto specifica e quindi il provvedimento emesso e siccome è sottoscritto è capitata un'ipotesi di provvedimento sostanzialmente emesso prima dei 60 giorni ma comunque notificato in data successiva e l'agenzia delle entrate dall'altra parte ha detto sì va bene noi lo abbiamo emesso prima dei 60 giorni ma al momento della notifica e quindi oltre i 60 giorni comunque tu contribuente non avevi fatto nessuna eccezione quindi comunque le tue eccezioni risultano sostanzialmente pretestuose di pura forma perché in verità diciamo comunque tu non hai eccepito nulla in questo senso e da ultimo l'ultima domanda che avrei voluto proporre che comunque propongo era sostanzialmente se appunto basta riagganciandomi a questo esempio se basta la semplice assenza diciamo così del contraddittorio per poterne statuire la nullità oppure se comunque ma la risposta anche in questo caso l'avete già avuta occorre che il contribuente dimostri che avrebbe effettivamente potuto dire qualche cosa che avrebbe effettivamente potuto portare delle ragioni che lo vedremo la corte dice non meramente pretestuose non meramente dilatorie io a questo punto partirei sì avevo fatto un esempio ricollegandomi a quello che avevo detto poco prima cioè all'ipotesi di un contraddittorio o comunque di una partecipazione alla istruttoria tributaria con un elenco di quelle che normalmente sono le situazioni in cui in qualche modo è prevista una partecipazione del contribuente partecipazione che può esplicarsi nei più diversi e variegati modi e soprattutto che potremmo a volte definire obbligatoria o a volte semplicemente appunto facoltativa o comunque di ausilio quella relativa agli studi di settore quella relativa alla contestazione preventiva dell'illecito quella che probabilmente tutti noi ben conosciamo dell'accertamento con adessione quella relativamente all'accertamento sintetico liquidazione e controllo formale della dichiarazione fatti specie elusive e accertamenti finanziari qui mi limito a segnalare ma sicuramente voi lo sapete proprio relativamente alla necessità che l'eccezione il contraddittorio lo scambio diciamo così non sia meramente pretostuoso e non sia meramente dilatorio ci sono già state delle sentenze che hanno statuito la inammissibilità o più esattamente la tardività del ricorso presentato oltre il termine dei 60 giorni a seguito di accertamento distanza di accertamento con adesione l'ipotesi era semplicemente data dal fatto arriva l'atto contro cui ricorrere si presenta l'istanza di accertamento con adesione come tutti voi sapete questo sospende per 90 giorni il termine per la presentazione del ricorso l'ipotesi esaminata era abbastanza estrema perché se ricordo bene sostanzialmente non era proprio stata fatta nessuna attività quindi non vi erano stati incontri con il contribuente o con il rappresentante del contribuente in questo caso l'agenzia in maniera vittoriosa ha eccepito che appunto la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione fosse stata fatta solo con meri scopi dilatori e la prova era stata appunto data dal fatto che non vi era stato alcun incontro e che quindi sostanzialmente non si dovesse applicare in effetti non fu applicato il termine di sospensione dei 90 giorni ripeto questo è stato era un caso abbastanza estremo quindi in mancanza assoluta da quel che ho letto del contraddittorio ma nel caso in cui il contraddittorio si instauri ma in maniera se vogliamo molto semplice o con scarse eccezioni o con eccezioni che possono essere contestate dall'agenzia come semplicemente dilatorie a questo punto io mi chiedo se poi l'agenzia non possa effettivamente in sede contenziosa anche andare appunto a contestare il termine di sospensione dei 90 giorni dicevo a fronte di tutte quelle ipotesi che avevo elencato precedentemente anzi non a fronte ma diciamo a chiusura corollario in un certo senso perché citato più volte dalle sentenze che poi andremo ad esaminare abbiamo l'articolo 12,7 dello statuto del contribuente la norma che ben conoscete che ha dato anche origine a buona parte del contenzioso che andremo ad esaminare per cui il contribuente è sottoposto a verifiche fiscali a 60 giorni di tempo per produrre innanzi all'amministrazione procedente osservazioni e richieste relative alla propria posizione di cui la stessa dovrà tenere conto motivando l'atto impositivo quindi questi sono è una brevissima carellata delle ipotesi legislativamente previste ma da qui possiamo partire per vedere il viaggio possiamo immaginarcelo in questo modo fatto e dalla giurisprudenza comunitaria e dalla giurisprudenza nazionale per ampliare il concetto di contraddittorio pre emanazione dell'atto perché ve lo ricordo stiamo sempre parlando di contraddittorio pre emanazione dell'atto per arrivare a vedere se a fianco di queste ipotesi tassativamente prevista ce ne possa essere una diciamo superiore immanente come dice appunto come dicono le varie sentenze e che possa e soprattutto debba essere generalmente applicato come principio appunto di obbligo del contraddittorio partiamo da quella che è la sentenza appunto sopropè del 2008 in cui appunto diciamo così notiamo un bilanciamento dei due interessi l'interesse dell'amministrazione finanziaria ad un corretto procedimento ad una ad essere appunto si diceva prima amministrazione di risultato e l'interesse difensivo di tutela dei propri diritti da parte del cittadino in questo caso da parte del contribuente quindi lo scopo del contraddittorio ci viene detto è quello di mettere l'autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso quindi diciamo così aiutare la nostra controparte aiutare l'amministrazione finanziaria a conoscere tutti gli elementi del caso e al tempo stesso per ciò che riguarda il contribuente poter far sì che l'amministrazione stessa possa correggere un errore che il contribuente possa far valere elementi relativi alla situazione personale tali da far sì che la decisione sia adottata o non sia adottata ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro quindi modificare la decisione nel suo contenuto finale oppure addirittura arrivare a evitare che il provvedimento sia adottato successivamente alla sentenza di la sentenza sopropre ci sono state alcune sentenze in ambito nazionale io ne citerò qui soltanto alcune di Cassazione che hanno preso spunto se così vogliamo dire hanno appunto ritenuto che il contraddittorio deve ritenerso un elemento essenziale e imprescindibile anche in assenza di un'espressa previsione normativa del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa dopodiché in materia specifica di accessi ispezioni verifiche la sentenza della Cassazione del 2009 28 0 49 che ricorda come per il buon andamento l'impazzarità dell'amministrazione pubblica favorire il dialogo l'intesa tra fisco e cittadino ricorda appunto come il rapporto debba essere improntato a lealtà correttezza e collaborazione prendendo spunto da questo e anche da qualche da diciamo una affermazione fatta prima dal professor del Federico l'ipotesi in cui appunto l'amministrazione finanziaria dotata di ben più ampi poteri anche se sicuramente magari limitati rispetto a quella penale che è ancora più se vogliamo incisiva possa o tra virgolette debba collaborare per riuscire a raggiungere questo tipo di provvedimento corretto e nello spirito della collaborazione il professor De Federico diceva ma io devo produrre della documentazione magari di tipo bancario o altro faccio la domanda e a parte il fatto che la banca me la faccia pagare un costo assolutamente spropositato perché almeno questo è ciò che a me dicono i miei clienti devo aspettare tanto e devo pagare tantissimo perché mi dicono che devono mettere una persona giù in cantina a fare le fotocopie apposta per me e ogni pagina costa una cifra incredibile è pazzesca e comunque a parte questo io non riesco perché comunque nei tempi del contraddittorio non riesco a produrre questa documentazione chiedere appunto all'amministrazione con i suoi poteri di poter chiedere diciamo così l'esibizione alla banca all'istituto di credito o comunque al soggetto che detiene la documentazione di cui ho bisogno o o vado al di là altro caso assolutamente personale nel senso successo nella difesa di un contribuente sostanzialmente io debbo dimostrare determinati rapporti ad esempio quindi l'origine o la motivazione di un bonifico di un trasferimento o di qualunque altra movimentazione e naturalmente sapete benissimo che non è che io possa né in sede contenziosa successivamente perché espressamente è vietato né in sede precedente portare qualcuno e far sì che questo qualcuno possa rilasciare delle dichiarazioni testimonianze in sede contenziosa o dichiarazioni in sede precedente sempre nell'ambito della collaborazione e della parità di diritti questa cosa è solo riservata alla guardia di finanza che chiama o anche l'agenzia delle entrate chiama fa diciamo stila fa fare delle dichiarazioni e poi queste dichiarazioni entrano comunque a far parte del procedimento e vengono utilizzate ai fini dell'accertamento stesso a questo punto io potrei chiedere l'amministrazione finanziaria ai sensi appunto del 32 di chiamare la parte perché questa parte renda delle dichiarazioni sulla natura di quel trasferimento di quel bonifico di quelle attività eccetera devo dire senza spirito eccessivamente polemico che la risposta è stata eh no ma è contro di noi non lo facciamo mica questo nell'ambito della collaborazione non sono di Trento e quindi sono assolutamente e l'agenzia non era assolutamente quella trentina però il problema è eh lo spirito di eh collaborazione lo spirito di buon andamento di amministrazione di di risultato dovrebbe sicuramente essere eh diciamo così da eh entrambe le parti andando avanti per ciò che ehm riguarda eh le sentenze che eh mi ero ripromesso di eh esaminare di sottoporvi oggi per arrivare a eh comprendere eh le risposte alle domande che avevo fatto ehm all'inizio arriviamo appunto a questa celeberrima oramai sentenza di Cassazione a sezione unite del eh duemila e eh tredici che appunto dichiarava come giustamente osservato dal professor De Federico l'annullità eh dell'atto emanato prima eh dei eh sessanta giorni eh questo ehm a meno che eh diciamo non esistesse eh un motivo eh per eh poter emettere l'atto eh precedentemente mi limito a eh sottolineare perché questo aspetto secondo me va eh sottolineato che è la stessa Cassazione che dice che il vizio invalidante non consiste nella mera enunciazione nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato le missioni anticipata bensì nell'effettiva assenza di detto requisito la cui ricorrenza nella concreta fattispecie all'epoca di tale missione deve essere provata dall'ufficio quindi quindi il consiglio è non limitatevi semplicemente ad eccepire il fatto che l'atto sia stato emanato nei 60 giorni prima dei 60 giorni e che l'ufficio non abbia eh esplicitato i motivi di gravità ed urgenza perché è la stessa Cassazione che ci ricorda che eh la nullità non è combinata per la semplice eh mancanza nell'atto per la semplice non dichiarazione nell'atto del motivo di gravità ed urgenza ma del fatto che il motivo sostanzialmente non eh su si stesse quindi penso di poter eh argomentare che se poi successivamente l'amministrazione finanziaria pur se nell'atto non aveva evidenziato i motivi di gravità ed urgenza a seguito dell'eccezione proposta dal contribuente riesce a dimostrare l'esistenza di tali motivi l'eccezione eh risulta assolutamente vana proseguo molto velocemente passando anche in questo caso a eh due sentenze alla sentenza di due eh procedimenti eh sentenza già eh più volte citata in cui si ricorda il rispetto dei diritti della difesa e il diritto al contraddittorio e eh il diritto quindi di ciascun individuo di essere ascoltato prima né prima che nei suoi confronti venga emesso un atto eh costi un atto potenzialmente eh lessivo e il fatto che eh i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sull'interesse devono essere messi in condizioni di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione e qui vedete un riferimento alla precedente eh sentenza della medesima Corte di Giustizia alla eh sentenza eh Sopopè un punto importantissimo almeno a mio avviso è eh il eh punto numero trentuno di eh questa eh sentenza perché ci ricorda che l'obbligo del contraddittorio incombe sull'amministrazione degli stati membri ogni qual volta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione quando anche la normativa comunitaria applicabile non preveda espressamente si fatta formalità quindi ci chiedevamo abbiamo bisogno di una disposizione specifica o eh possiamo considerarlo un principio immanente quello del eh contraddittorio eh la risposta viene tra l'altro ma la vedremo anche eh più avanti da legislazione nazionale viene dicevo dalla Corte di Giustizia perché comunque eh l'obbligo incombe sulle amministrazioni dei vari stati quando anche la normativa comunitaria non preveda espressamente eh si fatta eh formalità sempre la eh medesima sentenza in un altro punto eh molto eh importante il giudice nazionale eh avendo l'obbligo di garantire la piena efficacia del eh diritto deve tener conto della circostanza che una si fatta violazione cioè quella del contraddittorio determina eh l'annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se in mancanza di tale irregolarità tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso quindi come ha giustamente detto eh chi eh mi ha eh preceduto non basta soltanto invocare la violazione del contraddittorio occorre dimostrare che in mancanza di tale eh irregolarità tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso allora facciamo una piccola battuta di arresto su questa eh sentenza e qui io ho indicato eh tre mie piccole considerazioni eh se volete eh tre piccole eh istruzioni eh per l'uso che cosa possiamo diciamo così sostanzialmente estrarre come principi da questa importantissima sentenza innanzitutto che eh in caso di omesso contraddittorio non vi è automatica nullità ma che la parte sia obbligata ad allegare una difesa che provi che il risultato del procedimento avrebbe potuto essere eh diverso in sostanza che l'eccezione di difetto del contraddittorio non possa essere definita come ehm pretestuosa o eh temeraria io salterei alle ultime eh due eh sentenze proprio veramente recenti la più volte citata sentenza di Cassazione a sezione Unite 19.667 del eh 2014 che ancora eh una volta ci ricorda che il eh rispetto del contraddittorio è un principio fondamentale e immanente nell'ordinamento eh tributario e l'obbligo di attivazione da parte dell'amministrazione del contraddittorio endoprocedimentale ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del eh contribuente eh medesimo anche da questa sentenza eh possiamo dunque trarre una serie di eh argomentazioni non ho riportato altre parti perché tra l'altro è una sentenza anche eh abbastanza lunga e per non rubarvi ulteriore tempo mi permetto di eh sintetizzarvi quelle che sono eh diciamo i punti quelli che sono almeno a mio parere i punti fondamentali il contraddittorio deve essere appunto preventivo quindi viene ribadito deve anche essere scusate preventivo perché è chiaro che in seguito all'emanazione dell'atto e all'impugnazione dello stesso ci possa essere anche un contraddittorio eh successivo contraddittorio deve anche essere preventivo deve essere applicato a tutti i procedimenti amministrativi anche se non espressamente previsto vi ricordo che questa era una eh sentenza in una materia eh molto molto specifica su un istituto molto specifico che è quella che era quello dell'iscrizione di eh ipoteca per cui eh la eh le Cassazioni a sezione unite hanno eh statuito su quel punto ma poi diciamo si sono allargate hanno ampliato e sostanzialmente hanno detto questi principi non valgono solo relativamente al caso che ci è stato prospettato e quindi eh della iscrizione di ipoteche e quindi della preventiva comunicazione eccetera ma valgono comunque nei confronti di eh ogni ehm atto amministrativo che possa esserci una compressione di questo diritto del contraddittorio ma non l'eliminazione quindi solo una compressione e che questa compressione deve comunque essere giustificata e proporzionata di giustificazione ne abbiamo detto eh precedentemente quando abbiamo detto che l'amministrazione finanziaria o l'esterna direttamente nell'atto o eventualmente a seguito di nostra eccezione eh eh la illustrerà magari in sede eh contenziosa e infine l'ipotesi in cui questi requisiti non siano eh rispettati qual è appunto la sanzione quindi nel caso di eh omissione la sanzione è quella eh della eh nullità l'ultima sentenza che eh vi eh propongo praticamente eh dell'altro ieri che in realtà scusatemi non è una sentenza è una ordinanza una ordinanza eh di rimessione alle eh sezioni unite una ordinanza che eh sostanzialmente io partirei dalla eh parte ah fantastico non parto da nulla eh dalla da questa parte nella quale appunto si ribadisce ancora una volta che l'eccezione eh deve essere non meramente pretestuosa deve fondarsi su ragioni serie anche che concreto inidone a respingere la pretesa erariale e che appare foriera di notevoli incertezze applicative questo per precisare eh una una cosa che forse non ho eh sottolineato eh precedentemente eh quando sostanzialmente eh si parla di eccezione di eccezione del contraddittorio eh che deve essere portata non bisogna forzatamente dimostrare che le nostre eccezioni avrebbero portato all'accoglimento della domanda non è sostanzialmente un'anticipazione del merito ma la eh corte di giustizia ha utilizzato nelle varie lingue l'espressione mect o pouvoir eh diciamo che potrebbe portare quindi con quella che normalmente si dice eh una ragionevole possibilità che avrebbe portato all'adozione di un provvedimento diverso quindi l'eccezione da formulare non è quella da eh diciamo che coinvolge il merito o che comunque sicuramente eh dimostra di poter rispingere la pretesa erariale ma se vi ricordate come abbiamo visto all'inizio anche soltanto far modificare la pretesa stessa perché le due ipotesi erano emissione o non emissione dell'atto da un lato ma anche semplicemente emissione dell'atto in maniera sostanzialmente eh diversa quindi eh una eccezione non pretestuosa ma non per questo assolutamente tale da dover portare a respingere la eh pretesa ehm erariale l'ultima eh parte eh che forse quella che eh praticamente potrebbe anche interessare eh molto che che vado a sottolineare è ma sicuramente lo sapete che il fondamento di questa rimessione è in particolare se eh la 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 normativa citata prima dell'articolo 12 dello statuto del contribuente e quindi sostanzialmente la possibilità di dichiarare eh nullo l'atto emesso ante eh 60 giorni debba essere applicato soltanto alle eh eh ai pvc agli atti emessi successivamente a un pvc al di fuori eh dell'ufficio quindi eh presso il contribuente attività ispettiva esercitata presso il contribuente o anche eh nell'attività ispettiva esercitata a tavolino questo perché molto spesso l'amministrazione finanziaria dice sì io ho emesso l'atto antecedentemente ai 60 giorni eh dalla chiusura ma a parte che quando eh l'attività è interna a volte la chiusura non c'è neanche non c'è magari neanche un pvc nel caso di eh eh determinate attività di indagini interne ma comunque se anche c'è un pvc si tratta di una cosiddetta indagine a tavoline quindi non si applica la sentenza eh riportata precedentemente del 2013 che sancisce la nullità per il caso degli atti emessi antecedentemente ai 60 giorni dalla chiusura del ehm provvedimento non so il tempo perché non l'ho misurato se ho ancora due minuti due due eh ce li ho giusto per eh porre un ulteriore eh piccolo spunto visto che l'invito era quello di porre domande eccetera in questo senso eh più che porre uno spunto eh fare un plauso visto che prima giustamente io sto solitamente dall'altra parte del tavolo e quindi tendo ad essere un po' eh diciamo così polemico con l'amministrazione finanziaria ultimamente secondo me invece il principio del contraddittorio la volontà di eh comunque arrivare a questo atto eh condiviso eh si sta molto eh realizzando con io vedo la sempre maggiore emissione di atti 5 eh comma 1 bis del decreto legislativo 218 quindi quello che eh che è morto però per quel poco tempo credo che ancora per quest'anno eh sostanzialmente ce l'abbiamo perché è stato abolito ma comunque abrogato ma comunque resta in vigore per gli atti notificati fino a 31 eh dicembre del 2015 quindi forse ancora un po' e ne avremo il cosiddetto qualcuno lo chiama adesione eh all'invito e qualcuno eh giustamente adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio quindi l'agenzia invita al contraddittorio vieni e spiegami sostanzialmente invece di eh notificare già l'avviso di accertamento poi il contribuente eh propone l'istanza di accertamento con adesione si va a fare il contraddittorio post emissione dell'atto ultimamente molto spesso l'invito è proprio antecedente quindi eh sostanzialmente è un invito al contraddittorio in realtà devo dire la prima frasetta non è tanto l'invito al contraddittorio ma è l'invito a pagare la somma riportata nell'atto quindi volendo eh puoi pagare la somma riportata nell'atto con la riduzione delle sanzioni a un sesto e siamo tutti felici e contenti se proprio vuoi dire qualche cosa vuoi contestare allora c'è comunque la possibilità di non pagare e comunque di venire ad una determinata data a diciamo instaurare il contraddittorio un contraddittorio che è chiaramente preventivo così come richiesto da tutte le sentenze che abbiamo fino ad oggi visto un contraddittorio appunto preventivo alla emissione dell'atto stesso e che poi naturalmente però con pressione o no forse no perché espressamente legislativamente previsto impedisce poi di fare un'ulteriore possibile adessione successivamente quindi il contraddittorio comunque fatto precedentemente all'emissione dell'atto impedisce poi di presentare l'istanza di accertamento con adessione di fare un contraddittorio anche diciamo in un momento successivo grazie ringrazio molto l'avvocato Censi che ci ha dato questo sguardo nonostante la sua premessa non ha fatto ripetuto cose già dette ma anzi ci ha dato spunti nuovi e adesso siamo molto ansiosi di sentire invece il direttore dell'agenzia Vincenzo Giunta anche perché abbiamo avuto degli spunti da chi opera in una realtà dove l'agenzia funziona come in una grande città quindi avrà dei meccanismi differenti noi sappiamo per l'esperienza trentina che forse in trentino chissà mai adesso sentiamo il direttore grazie io sono contento del fatto che riusciamo sempre a organizzare dei dialoghi di diritto tributario stimolanti e così diciamo interessanti e di questo come dire mi fa molto piacere la collaborazione che c'è fra l'agenzia dell'entrata e l'università perché è uno strumento diciamo di approfondimento ci tengo poi a essere personalmente presente non perché io possa dare delle soluzioni che sono auspicate da qualcuno che mi ha preceduto ma quanto per il fatto che è importante che noi anche ascoltiamo quelle che sono le considerazioni e le argomentazioni che vengono esposte perché noi abbiamo voglia di crescere e abbiamo voglia anche di migliorare sicuramente il nostro modo di lavorare perché abbiamo un obiettivo che è quello di cercare un po' di riavvisinare il cittadino e il contribuente ad una fase diciamo quantomeno di civiltà e di confronto corretto non sempre ci riusciamo può essere colpa nostra possono essere delle difficoltà oggettive può essere la crisi economica può essere la difficoltà e anche la percezione di quello che è il dovere è di pagare i tributi perché qualcuno ha osservato in maniera secondo me opportuna che il rapporto con la pubblica amministrazione non è soltanto non si esplica soltanto nel momento del prelievo che è doloroso ma sempre di più si va a sindacare anche il modo come poi le risorse vengono impiegate e se poi ci sono delle diciamo anche dei fatti magari amplificati dai media per cui le risorse sono impiegate male e sicuramente il cittadino non è disponibile ad un atteggiamento come dire conciliante nei confronti della pubblica amministrazione questo è un po' un momento particolare secondo me io l'avverto come un momento di difficoltà particolare ci ho detto voglio solo fare una battuta con riferimento a quello che ha detto prima l'avvocato scienzi perché a noi è successo la dottoressa De Gasperi che è qui presente come capo ufficio controlli lo può ricordare a noi è successo che ci siamo preoccupati di ricercare in paesi blacklist le prove dell'esistenza di soggetti che avessero comunque una diciamo caratteristica di imprese economiche e l'abbiamo fatto nell'ambito di un procedimento di assertamento con adesione perché il risultato della contestazione era enorme e avevamo la sensazione che superasse quello che poteva essere la capacità contributiva del soggetto quindi non è che siamo stati per sicuramente bravi siamo stati oggettivi nel senso che ci siamo posti un problema di coscienza a dire ma insomma alla fine tutte queste contestazioni di carattere formale portano ad un risultato conforme oppure effettivamente poi l'accertamento va oltre diciamo quella che è la capacità contributiva del soggetto quindi non è che ripeto queste cose le facciamo perché vogliamo essere più bravi degli altri le facciamo perché fanno parte secondo me di un percorso che dobbiamo in qualche modo immaginare che è appunto quello che ho detto prima cioè quello di ricercare la nostra attività è un'attività di controllo deve essere severa nei confronti di chi soprattutto in maniera con comportamenti fraudolenti sottrae risorse preziose e quindi non ci possono essere sconti quando ci sono di mezzo le frodi quando ci sono di mezzo da ultimo abbiamo scoperto un soggetto che praticamente poiché noi abbiamo dei controlli sulle compensazioni in debite se non che questi controlli bloccano il credito IVA e abbiamo scoperto che abbiamo qualche buco perché qualcuno ha impendato dei crediti IRPEF oppure addirittura dei crediti imposti pagati all'estero e con questo ha pagato i contributi IMS cioè purtroppo assistiamo a queste situazioni che sono da codice penale e che dovrebbero essere le vere ipotesi di codice penale piuttosto che quelle dimensioni di chi magari non è riuscito a pagare le imposte perché era in difficoltà finanziaria e quindi insomma indubbiamente così però la nostra è un'azione di deterrenza non immaginiamo di fare accertamenti numerosi e non immaginiamo di fare accertamenti automatici finché ascoltavo le relazioni mi è venuto in mente un fatto che risale parecchi anni fa possiamo dire anche al secolo scorso era allora direttore dell'agenzia dell'entrata Massimo Romano ed era Rossi direttore dell'accertamento un incontro si ha confidato avevamo un incontro formativo insomma per noi dirigenti si ha confidato che il ministro non so neanche chi fosse il ministro dell'epoca gli aveva chiesto di emanare alcune migliaia di accertamenti automatici sulla base degli scostamenti degli studi del settore e questo direttore centrale dell'accertamento ha detto io piuttosto mi dimetto perché sicuramente ecco voglio dire quindi rispetto a un periodo in cui si poteva immaginare che per contrastare l'evasione fiscale si poteva far partire un impulso informatico e inviare migliaia di accertamenti credo anche che lo stesso modo con cui utilizziamo oggi gli studi di settore che è più uno strumento di selezione che non uno strumento di contestazione diciamo dello scostamento o comunque sicuramente nell'ambito dell'accertamento dello studio di settore noi abbondantemente applichiamo principi di contraddittorio che ho sentito più o meno come dire obbligatori ma specificamente obbligatori nella materia dell'accertamento riferito o diciamo innescato meglio dire da studi di settore allora qual è la qual è la l'atteggiamento adesso della dell'agenzia per come lo vedo io come responsabile della provincia autonoma di Trento ma credo anche in linea con quelle che sono ovviamente le indicazioni che arrivano da centro ma vediamo già la circolare 25 dell'anno scorso che ci raccomanda di curare il contraddittorio quindi sicuramente noi in questo dobbiamo crescere e dobbiamo essere più efficaci anche perché non basta di convincersi che noi stiamo garantendo il contraddittorio ma occorre che questo contrattatore sia effettivamente efficace si citava prima la legge delega per quanto riguarda l'abuso del diritto ma voglio dire credo dico anche che nella realtà di Trento abbiamo avuto abbiamo delle continue sollecitazioni anche da parte del garante del contribuente su questo punto insomma che ne ha fatto anche un po' una questione diciamo di bandiere sulla quale abbiamo anche aperto un tavolo di confronto anche con chi effettivamente poi operava e opera nell'ambito dell'attività di controllo quindi c'è molta attenzione e c'è anche la consapevolezza che non tutte le nostre procedure perché poi le procedure non è che le invendiamo noi le procedure sono anche quelle che ci arrivano da centro e che sono anche diciamo in qualche modo guidate e quindi forse come dire che ci sia da fare una sorta di come dire di revisione di check insomma di quello che è il modo come attuiamo il contraddittorio probabilmente ci sta ci sta per esempio nell'ambito dell'imposto di registro perché noi in materia di imposto di registro devo confessare che sostanzialmente ci stiamo pensando ma non lo facciamo ancora cioè noi praticamente quando c'è un scostamento di valore in linea di massimo al contribuente arriva comunque già è vero che poi si apre e si può aprire un accertamento con adesione e nell'ambito dell'accertamento dell'adesione c'è tutta una fase di contraddittorio che è assolutamente efficace che è sostanziale che è garantista nei confronti del contribuente ma qui parliamo poi però di un contraddittorio che deve essere preventivo e allora insomma io credo che partendo da quelle che sono le norme costituzionali c'è l'articolo 24 come diritto di difesa ma anche l'articolo 97 come buona amministrazione credo che sia nostro interesse e nostro vantaggio fare in modo che il contribuente sappia del perché gli stiamo chiedendo una somma questo fa parte del nostro progetto se veramente vogliamo che si crei un rapporto fisiologico sempre di più e patologico sempre di meno che si eviti il contenzioso che si evitano anche delle procedure qualcuno ha osservato che ci sono troppi istituti deflattivi del contenzioso perché abbiamo parlavamo prima del 5-1 bis che è preventivo vabbè in un caso lì non può essere replicato l'adesione ma parliamo della diciamo della fase istruttoria poi parliamo del momento dell'emissione dell'avviso di accertamento dove si può aprire un accertamento con adesione e poi magari non si chiude non si arriva un accordo e si instaura un contenzioso dove poi ancora si può adire la mediazione piuttosto che la conciliazione giudiziale se l'avvertenza supera i 20.000 euro di importo quindi questo sicuramente rappresenta un panorama dove come dire il confronto è ricercato sia dalle norme ma dai nostri stessi comportamenti noi sulla mediazione abbiamo molto lavorato per cercare di arrivare a quelli risultati sostanzialistici in termini di recupero di imposte cercando anche di superare molti aspetti formali soprattutto nell'ambito dell'accertamento nell'ambito del controllo formale che si è attrito il 36 terri piuttosto che in altre situazioni ecco però evidentemente quindi siamo attrezzatissimi per quanto riguarda il contraddittorio nella fase successiva all'emissione dell'avviso di accertamento sicuramente questi istituti si comportano perché io non riesco ad immaginare non so se è successo a Trento che noi abbiamo messo un avviso di accertamento e che poi a seguito di un'istanza di decisione non si sia verificato quel fatto che credo che sia comunque molto raro di solito si apre un confronto poi certo non sempre si arriva alla conclusione però noi la settimana prossima avremo inaugurazione dell'anno della giustizia tributaria e in quella sede come già è successo negli ultimi due o tre anni registriamo comunque una costante diminuzione del condensioso questo è perché effettivamente nelle nostre procedure cerchiamo di stare attenti ma non voglio fare delle affermazioni trionfalistiche perché evidentemente noi siamo qui e ci sono molti colleghi anche in sala siamo qui proprio per ascoltare e per riflettere su questi aspetti e io poi innanzitutto vorrei riprendere la carrellata che ha fatto l'Avvocato Scenzi per puntualizzare anche quali sono i termini così operativi in cui noi poi per le varie tipologie del saltamento operiamo e poi voglio riflettere un attimo anche su questo problema con riferimento alla ordinanza 527 del 15 gennaio su questo problema dell'assertamento a tavolino insomma allora noi abbiamo quindi si è parlato dell'assertamento sintetico ci sono con le nuove disposizioni poi era lo spauracchio dell'anno scorso ma mentre si pensava qualcuno pensava che l'assertamento sintetico doveva essere un assertamento di massa io tengo a dire che l'assertamento sintetico è un assertamento di tipo residuale cioè quando la capacità contributiva soggetta quindi anche dal punto di vista numerico poi c'è la stampa che si continua a chiedere adesso è un po' di tempo che non lo fa ma io mi sono trovato sollecitato più volte dai giornali locali a dire ma quanti assertamenti fate ne facciamo pochi ne facciamo pochissimi e non è più e non siamo più neanche contingentati a fare un numero definito di assertamenti proprio perché la nostra programmazione si lascia molto più liberi di andare a analizzare quali sono le problematiche del territorio quali sono anche i settori di intervento eccetera e non dire dovete fare tanti di questi e tanti di quest'altro come succedeva qualche anno fa ecco l'assertamento sintetico oggi prevede due momenti di contraddittoria la prima fase è quella in cui al contribuente si notifica una comunicazione in cui si dice che il suo reddito si discosta e lo si invita a specificare quali sono le fonti di reddito alternativo o anche le sue capacità eventualmente patrimoniali per giustificare le spese o giustificare il tenore di vita poi come è noto il garante della price ha escluso la determinazione di quelle spese statistiche che guardate avevano comunque mediamente un valore al di sotto di 10.000 euro quindi non è che era diciamo fondamentale quindi è chiaro che l'assertamento sintetico deve essere rivolto a soggetti che hanno parecchi desini di migliaia di euro di scostamento qualche centenaria di migliaia di euro di scostamento e che ovviamente non riescono a giustificare la seconda fase è quella che dopo che il contribuente ha presentato le sue giustificazioni lo si invita al confronto ed è in quella sede poi appunto che sicuramente quindi sotto questo profilo credo che noi poi reddiciamo comunque dei verbali di contraddittori dei verbali diciamo in cui si registrano perché è vero che è previsto il processo verbale di constatazione ma le norme operative prevedono anche che tutte le volte che si invita il contribuente bisogna dare atto delle domande fatte e delle risposte ricevute quindi insomma sostanzialmente noi operiamo a volte i verbali sono come dire anche un po' così generici questo si lamenta soprattutto nella fase però insomma sostanzialmente sicuramente in questo caso ecco il problema è poi ma noi da questo verbale dobbiamo ulteriormente ancora tentere cioè considerare questo verbale un verbale di constatazione e pertanto ancora dare 60 giorni di tempo prima di potere ma noi abbiamo contestualizzato in qualche modo la fase del confronto non non prendiamo sicuramente il contribuente sotto il profilo dei termini non è che diciamo è vero noi diamo un termine di 15 giorni per dare una risposta ma è sempre possibile richiedere comunque una proroga ed è concessa automaticamente se è veramente giustificata quindi non è che allora mi domando se effettivamente non costituisce poi un appesentimento il ritenere che tutte le volte che si fa poi un confronto di questo tipo bisogna comunque attendere 60 giorni per poter emettere avviso di accertamento perché questo poi diventa anche un problema di efficienza ed efficacia anche della nostra attività accertamento di studio di settore l'ho detto già prima non è immaginabile che noi facciamo un accertamento di studio di settore senza un confronto perché insomma sarebbe assolutamente ci porterebbe veramente dei danni accertamenti accertamenti ex articolo 37 bis sicuramente è previsto e ci atteniamo strettamente a 37 bis procedure che rispettiamo in maniera rigorosa perché sul 37 bis noi notifichiamo e non solo noi possiamo avere una ipotesi in cui il 37 bis emerge cioè la violazione e l'illusione e l'ipotesi di illusione fiscale emerge da un verbale di constatazione nostro o della Guardia di Finanza e il contribuente a seguito di un processo verbale di verifica quindi ha la facoltà di produrre delle memorie e tendenzialmente rispettiamo il termine dei 60 giorni escluso il caso in cui ci troviamo con la nonità in scadenza chiaramente e però nonostante noi formalizziamo comunque la richiesta ex articolo 37 bis individuando la fattispecie elusiva perché lo riteniamo un elemento procedurale importante benché la Cassazione ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di dire che è forse eccessivo penalizzarsi con la nonità ma credo che anche la stessa legge dell'e che probabilmente poi replicherà queste stesse procedure eccetera abbiamo l'accertamento dei costi a blacklist articolo 110 comma 11 del Tuer e in questo caso il termine è di 90 giorni addirittura oltre i 60 giorni famosi dell'articolo 12 comma 7 e anche in questo caso noi anche seppur queste problematiche emergono dal processo verbale rispettiamo questi termini poi se dico qualcosa di cui deve essere smentito ci sono qui i colleghi in sala che mi possono correggere però insomma attenzione allora intagini finanziarie intagini finanziarie altro che un contraddittorio si fanno parecchi incontri perché normalmente ci troviamo di fronte alle richieste di maggior tempo per poter avere quelle informazioni ecco noi non chiediamo alle banche i dettagli delle cose ma voglio dire se ci fosse un motivo potremmo anche valutarlo insomma però non ragioniamo però in termini utilitaristici perché io credo che l'imparzialità deve essere la guida il principio che guida un po' la nostra attività perché altrimenti non facciamo il nostro dovere è vero che il processo culturale ne parlavamo ne accennavamo prima con il professor De Federico dice ma poi l'agenzia fa dei proclami e però poi quando io mi trovo a contatto con la singola situazione eccetera insomma il rapporto poi non è così idilieo come lo si voglia perché mi trovo magari dall'altra parte una sorta di vis compulsiva di fare a tutti i costi il risultato eccetera io credo che su questo effettivamente se c'è una necessità di un adeguamento culturale del cittadino a pagare le imposte non mi scandalizzerei a dire che ci deve essere anche un adattamento della nostra amministrazione e poi si parla spesso di amministrazioni dove questo rapporto è talmente così bello corretto di lì eccetera io credo che effettivamente ho avuto anche qualche esperienza di confronto indirettamente con operatori internazionali nel caso specifico di un amministratore di una grande società degli Stati Uniti e insomma non era poi così morbido il rapporto con il contribuente non è così morbido il rapporto con l'IRS quindi insomma sostanzialmente il rapporto col fisco è comunque un rapporto insomma delicato perché il fisco mette le mani nelle tasche insomma o quantomeno fa i conti in tasca e quindi evidentemente questa non è una situazione così come dire la dita allora queste sono sicuramente tutte fatti spese dove il contraddittorio è in qualche modo anche procedimentalizzato perché evidentemente ci possono essere delle carenze chiaramente si può ben lamentare che il contraddittorio nel settamento bancario è stato superficiale non è dato il tempo eccetera ma lì poi entriamo nel singolo contesto e entriamo in quelle motivazioni che devono dimostrare che effettivamente il risultato potrebbe essere diverso se si dava al contribuente la possibilità di presentare le sue giustificazioni accenniamo prima però anche così a titolo di cronaca che tendenzialmente noi quella disposizione che prevede contenuta sia nel DPR 683 che nel DPR 600 quella che sostanzialmente prevede che i documenti di cui non esibite non possono essere più presi in considerazione ecco da un punto di vista pratico noi quella disposizione di fatto non ne teniamo conto perché c'è sempre un motivo per cui il contribuente mi presenta dei documenti successivamente nella fase successiva non so poi chiaramente se si tratta di un soggetto che ha fatto sperire le strutture contabili e poi le fa emergere come un fungo questo è un discorso un po' diverso però insomma se un contribuente è una società soprattutto nell'ambito nazionale deve richiedere documentazione ad un paese estero e questo richiede del tempo noi possiamo anche chiudere una verifica e riservarsi poi di acquisire successivamente la documentazione allora evidentemente diciamo in questo panorama che ho cercato un po' di riprendere manca io vedo che il tempo scorre però cerco di chiudere velocemente manca effettivamente una puntuale osservanza del contraddittorio per quanto riguarda ipotesi di accertamento cosa è detto a tavolino quello che si diceva prima e allora l'ordinanza della Cassazione mi sembra abbastanza come dire chiara perché non è che dice rimettere le stazioni unite e non si pronuncia ma suggerisce anche la soluzione addirittura nell'ultima parte fa delle osservazioni dicendo che quei principi della sentenza cammino per la quale il mancato rispetto del contraddittorio può essere opposto solo se di tipo sostanziale solo se poteva comportare un risultato diverso e lo critica perché rimarrebbe indeterminato quindi indubbiamente l'orientamento di quella ordinanza è quello di dire ma qui occorre che effettivamente la Cassazione si sostituisca legislatore e con un'invasione di campo vada a generalizzare il principio della necessità di applicare comunque l'articolo 12,7 della struttura contribuente in tutte le fattispecie io penso che si possa trovare probabilmente una soluzione intermedia cioè quella che comunque l'accertamento a tavolino preveda una fase documentata perché non possiamo certo soddisfare un contraddittorio siamo soltanto sulla base di un confronto verbale magari non registrato eccetera insomma e quindi chiaramente ci vuole un riferimento documentale dal quale si evince che abbiamo rispettato un po' questo principio però secondo me lo si può fare forse al di fuori del termine stridente dei 60 giorni aggiuntivi e quindi non necessariamente obbligare l'amministrazione a emettere comunque un processo verbale perché questo potrebbe significare un'eccessiva formalizzazione del percorso ma con risultati e visto che poi parlavamo anche della necessità di avere diciamo anche un occhio al risultato perché la nostra amministrazione costa e quindi credo che quello di abbreviare le procedure sia anche un problema di risparmio di risorse io credo che si debba necessariamente quindi la nostra attenzione sarà quella di comunque contestualizzare sempre e anche necessariamente a tavolino una fase di confronto perché questo è utile a noi prima ancora che al contribuente perché non abbiamo nessun interesse ad emettere un avviso di esertamento ecco però io poi l'ultima così visto che tutti poniamo dei dubbi io poi mi domando ma è soddisfacente per il sistema il fatto che comunque una volta è emesso un avviso di esertamento a tavolino che non è stato molto soddisfacente dal punto di vista del rispetto al cosiddettorio possiamo ritenersi soddisfatti se poi aprendo un accertamento con adesione riusciamo a sanare comunque questa carenza perché in quella fase sicuramente riprendiamo poi è chiaro che c'è anche l'autotutela eccetera ecco su questo perché allora diventerebbe soltanto una questione di esplicitazione formale e non sostanziale io credo allora che bisogna tener conto anche del fatto che ci sono istituti che consentono di aprire un tavolo di confronto anche successivamente alla missione della presenza di servizio grazie bene ringrazio il dottor Giunta che ci ha dato proprio un panorama veramente interessante anche propulsivo relativamente al diritto al contraddittorio come viene declinato anche nell'agenzia locale ho visto che il professor Del Federico prendeva qualche appunto se aveva voglia di replicare o prima vediamo qualche domanda se c'era qualche domanda particolare abbiamo il microfono aperto so che il giudice Motte si ha avuto una questione particolare relativa a una questione di contraddittorio di recente se c'era qualche scrivere che non c'è il contraddittorio tant'è che ne abbiamo parlato in in collegio in udienza e poi ci siamo resi conto in camera di consiglio che di fatto era stato svolto il contraddittorio cioè erano state risultava per iscritto e anche nel merito nell'indagine approfondita non c'era nessuna doglianza però insomma ci ha fatto sorridere questa cosa per cui adesso insomma diventa diventa un atto come il difetto di motivazione come il difetto di motivazione per cui abbiamo detto va a finire che poi di fatto si andrà velocissimi sul contraddittorio senza più crederci perché se viene usato in maniera temeraria o pretestuosa così come si è accennato va a finire che poi l'analisi non sarà più approfondita no però questa era solo una considerazione no io invece già che ho il microfono mi viene sempre molto facile fare il paragone con il diritto penale perché è la materia che conosco forse meglio e perché la mia scelta di fare il difensore penale nasce da un diritto da una volontà di garantismo sentita e non da una scelta qualsiasi professionale per cui mi chiedevo come nel diritto penale paradossalmente non ci sia la necessità di sentire l'imputato prima l'obbligatorietà non c'è mentre qua in questo settore si introduce l'obbligatorietà del contraddittorio arrivo poi però alla conclusione che mentre nel diritto penale alla chiusura delle indagini mi è data la facoltà alla persona quindi al contribuente nel parallelo di chiedere di essere sentito abbiamo però nel penale quello che secondo me è il nodo anche del contraddittorio nel nostro processo penale nel nostro processo tributario è la contestazione precisa dell'addebito che forse nel tributario manca nella fase prima dell'avviso di accertamento il contribuente non sa esattamente che cosa gli venga contestato quello che vediamo come contraddittorio molte volte è la richiesta di chiarimenti ma non a fronte di una specifica contestazione è la richiesta di giustificazioni su un prelievo su movimenti bancari è la richiesta di giustificarsi al buio qua non parlo da giudice parlo da contribuente o più da difensore al buio su una capacità di spesa ma io contribuente sono in difficoltà se non ho una precisa contestazione e strategicamente capisco il difensore come non voglia a fronte di una non specifica contestazione dare delle giustificazioni che poi possono essere in sede di avviso di accertamento usate contro di lui per cui molte volte anche non so nello studio di settore o appunto nella capacità di spesa non c'è la contezza di quale sia ad esempio il conto nello studio di settore che ha portato il cluster a quella cifra piuttosto che a un'altra per cui viene chiesto al contribuente di dare ragione sulla base di una cifra che a lui è ancora sconosciuta allora io dico è pur vero che c'è una richiesta di contraddittorio ma il contraddittorio se ha il confronto come dice il direttore e il dottor Giunta confronto fra due tesi diverse il confronto deve essere aperto già dall'inizio è vero che poi dopo si può recuperare in sede di accertamento con adesione abbiamo mille occasioni per ma poi mi scattano le sanzioni poi ho costi diversi per il contribuente quindi la ragione per cui il giudice la giurisprudenza sta recuperando questo contraddittorio prima della legge è proprio quella di evitare non solo un contenzioso ma io mi auguro delle spese per il contribuente perché in ogni caso quello a cui va incontro il contribuente in caso di difetto di contraddittorio è un aggravio notevole non solo in termini di spese di avvocato o commercialista in termini di spese anche di patimento di situazione che gli dà sofferenza in ogni caso per cui mi chiedevo il contraddittorio in realtà non viene ben specificato quale debba essere quello che io in penale chiamo capo di imputazione qual è esattamente la contestazione e secondo me questo è il vero nodo del contraddittorio vedo che tutti annuivano quindi non so quando risponderanno tutti sicuramente infatti ho detto che questo è un punto debole del fatto che effettivamente molte volte noi notifichiamo una richiesta di chiarimenti di produrre dei documenti e poi manca una fase in cui effettivamente si notifichi formalmente si rende adotto formalmente il contribuente di quelli che sono gli effetti per quanto riguarda il settamento bancario è un po' diverso perché comunque la legge già prevede a priori la presunzione di reddittività se è un'impersione dell'onore della prova e quindi è il contribuente che deve dimostrare che effettivamente quelle somme non hanno contribuito a formare reddito o sono movimenti giustificati e così via quindi indubbiamente così effettivamente abbiamo avuto qualche caso in cui è successo che dopo qualche tempo che avevamo chiesto i documenti abbiamo notificato l'assertamento e questo poi era stato lamentato come diciamo mancanza di una fase di confronto che abbiamo dovuto poi recuperare nell'assertamento con adesione ed è vero che l'assertamento con adesione per costo a me dispiace sostanzialmente che il comma 51 bis diciamo sia stato abolito ma ne abbiamo fatto un uso un po' limitato perché in quella procedura non erano definibili tempi e soprattutto quando ci troviamo con la normalità in scadenze mi pare che effettivamente avevamo qualche difficoltà perché altrimenti il procedimento si poteva allungare troppo e quindi non sempre ma in altre realtà io sono stato anche direttore in un ufficio di Milano ne facevamo un uso più come dire più diffuso soprattutto quando a seguito della legge Bersani avevamo la possibilità di rettificare le sessioni i valori diciamo delle sessioni societative per quanto nel settore per esempio immobiliare e così via e lì proprio era uno strumento che utilizzavamo però adesso credo che bisognerà fare i conti un po' con il nuovo scenario che si pone che si presenta con il nuovo ravvedimento perché il nuovo ravvedimento dà la possibilità di ravvedersi anche a seguito di processo verbale con il pagamento della sanzione ridotta a un quinto quindi questo credo che poi apra un nuovo scenario perché evidentemente se noi rischiamo e quindi questo mi induce a dire che effettivamente ci dobbiamo in qualche modo anche attrezzare sotto questo profilo insomma a rendere comunque il contraddittorio efficace e diciamo e sistematico perché altrimenti si potrebbe porre un problema di disperità di trattamento perché non si dà poi al contribuente la possibilità di chiudere anche diciamo con un ravvedimento però fra l'altro mi dispiace che questo che questa normativa che forse non ha il dono della semplificazione visto che c'è una scala di valori diciamo che parte dalla riduzione a un desimo fino a riduzione a un quinto a un sesto eccetera insomma è un po' articolata però ho letto anche qualcosa così diciamo qualcuno che si scagliava in maniera quasi violenta contro questo nuovo istituto dicendo che non facilita per niente diciamo ecco ne parleremo nel convegno e il tema fra l'altro che devo affrontare io personalmente ne parleremo nel convegno del 13 marzo cercheremo di approfondire e io credo invece che bisogna utilizzare perché era in passato molto richiesto ed era sempre si faceva spesso sentivo fare spesso l'osservazione di dire ma perché io passato un anno non posso più correggere la mia posizione e così quindi credo che anche questo aspetto qui del nuovo diciamo ravvedimento possa in qualche modo incidere sull'argomento che in qualche modo abbiamo trattato oggi però ecco non volevo se poi c'era qualcuno che voleva replicare alle osservazioni dell'ottoressa Motes io più che replicare purtroppo sono ancora una volta assolutamente adesivo sul fatto che la maggior parte delle volte non c'è capo di imputazione c'è stato un periodo almeno un anno circa nel periodo in cui andava l'anno scorso due anni fa di gran moda il redditometro e sostanzialmente avevo solo gente che arrivava e mi diceva mi è arrivato questo dall'agenzia delle entrate ed era sostanzialmente un per l'annualità magari anche due o tre neanche soltanto una portami tutte le movimentazioni bancarie tutti gli immobili che possiedi tutte le automobili che possiedi o di quella disponibilità questo questo e quest'altro sostanzialmente sembrava scusate i termini io l'ho definito una pesca strascico nel senso che comunque mi porti e io vedo se da quello riesco a comprendere qualche cosa e su questo vado ad aggiungere l'ulteriore problema nel concetto di difesa del contribuente dove si inverte esattamente lei prima faceva il parallelo con il penale l'onere della prova sostanzialmente io devo molto spesso spiegare che nel penale sono innocente fino a prova contraria nel diritto tributario sempre più spesso sono colpevole e devo dimostrare il contrario perché comunque le presunzioni a favore dell'ufficio sono veramente sempre 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 più numerose quindi in ogni caso dover sempre andare a dimostrare il perché si è fatta una determinata operazione parlo tra l'altro ad esempio da professionista piuttosto che specificamente per gli imprenditori per cui comunque di ogni singola movimentazione deve essere data la giustificazione ampliata a quella che è la parentela perché comunque la giustificazione deve essere data dai familiari conviventi dal padre dalla madre eccetera 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 io quando ancora viveva terrorizzavo mio padre dicendo stai ben attento a tutte le movimentazioni che fai e riuscire a spiegargli che qualcuno poteva pensare che un suo versamento in banca poteva essere interpretato come un mio incasso in nero fatto per il suo tramite veramente lo lasciava assolutamente per presso quindi io sinceramente condivido come alcune situazioni e alcune agenzie per carità ripeto io ho la fortuna di parlare come non trentino non operante a Trento quindi non so quale sia la realtà locale mi sembra da quello che è stato detto totalmente diverso però in altre situazioni effettivamente c'era questa richiesta forse nata di documentazione di tutto ciò che possiedi tutto ciò che hai ciò che è reddito ciò che è patrimonio per non parlare del periodo delle Porsche per cui sostanzialmente tutti quelli che avevano una Porsche fosse stata pure di quarta mano o di non so quale cilindrata comunque dovevano andare a spiegare perché e come avevano una Porsche io le dico che l'assertamento bancario ci ha messo qualche volta anche che ha fatto vivere anche a noi delle situazioni di disagio e noi abbiamo salutato con molto sollievo l'indicazione del dottoressa Orlando che appena si è insidata ci ha raccomandato di comunque tenere presente l'articolo 53 cosa ovvia ma che però molto spesso l'assertamento bancario proprio per la difficoltà di giustificare i movimenti perché poi la realtà è veramente molto varia perché a me è capitata nella mia carriera di un mediatore che acquistava e vendeva terreni senza intestarseli e quindi movimentava milioni di euro e poi praticamente tutte queste movimentazioni non riuscivo a giustificarle perché c'erano anche delle motivazioni di tipo diverso che insomma privacy e cose del genere con il soggetto con cui terloquio ed è stato veramente faticoso arrivare ad una determinazione di reddito comunque quel soggetto poi ha chiuso in adesione ha pagato risifiche importanti sicuramente superiori a quello che aveva guadagnato quindi questo è un problema normativo però attenzione perché l'accertamento bancario è un accertamento molto invasivo cioè diciamo indagini finanziarie e quindi secondo me noi ci siamo trovati anche di fronte a delle indagini finanziarie concomitanti con una valutazione dell'attività di impresa dove il risultato abbiamo dovuto in qualche modo arrivare arrivare credo che sia stata poi una conciliazione giudiziale che abbiamo fatto abbiamo dovuto arrivare anche a tener conto che effettivamente la potenzialità dell'impresa non poteva arrivare a quelle situazioni ma guardate che questo però richiede uno sforzo operativo non indifferente a fronte di una norma che mi dice che se non è giustificato io lo vado ad assumere come reddito quindi qui non è una questione poi il funzionario che opera applica la legge e tendenzialmente dice beh io mi attengo a quelle che sono le disposizioni ecco quindi c'è stato questo segnale adesso naturalmente ci vorrebbe anche un adeguamento normativo sotto questo profilo ma sicuramente il fatto di essere attenti e che l'assertamento bancario non determini un assertamento ingiusto è sicuramente un problema se me lo consenti volevo evidenziare un paio di cose specificamente attinenti al profilo del contraddittorio la prima è che in effetti da parte dei difensori raramente si eccepisce il vizio del contraddittorio omesso contraddittorio a fronte di accertamenti o avvisi di liquidazione in materia catastali e simili e questo è un profilo interessante invece da recuperare ancora di più in materia di tributi locali ancora di più in materia di tributi locali quindi solo un flash poi solo una considerazione ho guardato la sentenza l'ordinanza di cui avevo avuto notizia ma mai esaminato il testo integrale in realtà è un'ordinanza che non tiene alcun conto di una norma vigente dell'articolo 21 octies che già introduce un criterio per distinguere quale vizio è rilevante e quale vizio non è rilevante quindi credo che ci sarà ancora tanto da dire e da fare la facoltà chiude ma si può sempre uscire ecco non siamo prigionieri quindi forse non si può più entrare bene io ringrazio moltissimo gli ospiti perché devo dire che abbiamo avuto un dialogo particolarmente intenso molto interessante con degli spunti che davvero penso siano stati molto utili anche per me sicuramente ma anche per i partecipanti relativa a un tema che è sicuramente centrale e a questo punto vi ringrazio della partecipazione vi ricordo il prossimo appuntamento dei dialoghi che sarà il 18 marzo sul tema delle sanzioni ma ancora prima come avevamo detto anche con il direttore giunta il 15 marzo non qui ma la sala 13 marzo non qui ma la sala della cooperazione invece il tema sulla volontà di disclosure quindi un tema decisamente attuale in questo momento grazie a tutti della partecipazione grazie a tutti grazie a tutti